La prima domanda, la prima domanda è come te sei sentita, questa è la tua prima esperienza. Mi è piaciuta tantissimo, è stata la prima volta però sono contenta. La seconda domanda è invece dove te sei allenata in Italia con chi ti ha allenato, quale stile è particolarmente lì? e per la parte interna e in piedi con i miei due maestri, almeno Giorgio Petrosian. Giorgio Petrosian e Alvore Petrosian, almeno Giorgio Petrosian, e per la parte interna e a tutti i miei due champion. Giorgio Petrosian . La mia domanda è per Yedlana. In attraverso il legendario Kikibaki, ha fatto questa transizione alla MMA, racconta a noi suoi sentimenti. Se hai fatto Rina ora, hai visto che Rina facendo alcune cose che le persone e le persone non le vanno prima. Questa è una cosa che si tratta, ma cosa che sono? Questa è una cosa che aveva il tempo e la rinna. A questa è la prima cosa che arriva io per la rinno. Si è possibile, questo è un momento che non è difficile. Il rinno è stato un'amore in strancio, e che ci sono davvero le tue sensazioni, soprattutto quando sul ring, ci sei trovata davanti Marina che tra l'altro lo dicono si è comportata in maniera diversa da come la conoscevano in generale. Beh, è stato tutto, cioè completamente cambia ogni cosa, cioè lo striker ha un'impostazione differente e ovviamente il MBM ha un'altra, perciò non è semplice adattarsi, però credo di essere riuscita a fare abbastanza quello che ho imparato. La transizione è molto difficile, se sei un stand-up fighter, è difficile accettare a qualcuno per fare alcune cose stranze, come la grappellazione, ma il sentimento che ha avuto in questa grappellazione è stato molto difficile, molto intensa, perché lei ha trovato una nuova dimensione, molto interessante, è come se stessi andando in un'altra dimensione, è come se stessi andando in un'altra dimensione, ma lei ha trovato un'altra dimensione, ma lei ha trovato un'altra dimensione, ma lei è sicuramente ma lei è meglio di essere riuscita. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.